La madre della ragazzina di 13 anni che avrebbe subito ripetutamente abusi sessuali si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La donna, rappresentata in difesa dall'avvocato Nino Sutera, è stata sottoposta all'interrogatorio di garanzia al carcere Pagliarelli di Palermo, dove è reclusa nella stessa casa circondariale e anche recluso Pietro Civello, 63 anni, di gibellina, assistito all'avvocato Antonino Vallone e anche lui ha fatto scena muta. Hanno invece risposto alle domande del GIP del Tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia e gli indagati Calogero Friscia, di 25 anni, e Vito Campo, di 69 anni, difesi entrambi dall'avvocato Calogero Lanzarone. Entrambi hanno respinto categoricamente le accuse. Friscia, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe avuto rapporto sessuale con la minorenne a compensazione di un credito vantato dalla madre. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il menvitano Vito Sansone, 43 anni, difeso all'avvocato Giuseppe Buscemi, e Viorel Friscia, 47 anni, di gibellina, rappresentato all'avvocato Antonino Vallone. I difensori hanno chiesto l'annullamento della misura cautelare preannunciato, già ricorso al riesame. La ragazzina nel frattempo è stata affidata ad una comunità. Con le sue dichiarazioni avrebbe dato ad investigatori inquirenti degli elementi, per poter far scattare gli arresti, a conclusione di una complessa indagine che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo. Ad eseguire le sei ordinanze di custode cautelare sono stati i carabinieri della compagnia di Sciacca. Le accuse a vario titolo sono gravissime. Induzione alla prostituzione minorile, sfruttamento e favoreggiamento della stessa, nonché violenza sessuale e atti sessuali con minorenne, reati aggravati perché consumati ai danni di una vittima minore di 14 anni.